Salve amici del Centro Medio Italiano, non c'è pace per l'Italia, sempre nella morsa dell'instabilità. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per mercoledì 20 novembre. Al mattino precipitazioni sparse sulle coste tirreniche e sulle regioni settentrionali, con neve sulle Alpi fine 1500-1600 metri. Fenomeni in esaurimento al pomeriggio, con cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud, possibili acquazzoni solamente tra Liguria e Toscana. In serata e inottata torna a peggiorare al nord ovest e sul versante tirrenico centrale, con piogge nevicate fino ai 1200-1300 metri sull'arco alpino. Tempo stabile altrove, ma con molte nubi. Concludendo con le temperature, le minime tenderanno a diminuire, mentre le massime sono attese in aumento, specie al nord e sulla Sardegna. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.